Benissimo, le conclusioni le affido a Giuseppe Maggiore, le tue considerazioni finali anche in virtù di quello che abbiamo ascoltato di assoluto interesse. Le mie modeste considerazioni non possono che essere queste, cioè che noi oggi stiamo a parlare soltanto di uno, di un aspetto, di tutta una serie di atteggiamenti che fanno il rapporto del cittadino con le istituzioni e col contesto sociale. Purtroppo quello della legalità in riferimento al codice della strada, alle norme comportamentali, all'alcolismo e così via ci premono di più perché sono quegli atteggiamenti che generano, ahimè, morte. Però, ecco, è soltanto uno dei tanti aspetti di cui la compagine sociale vive l'atteggiamento con la legalità, con le istituzioni. Allora è da rivedere il nostro rapporto con l'istituzione scolastica, con le istituzioni politiche, con chi ci amministra, con chi invece è deputato all'ordine pubblico, vederli non come antagonisti o come banalità, perché spesso viene banalizzata la scuola, come colei che ti rilascia semplicemente il titolo di studio o il comune, cioè viene banalizzato oppure gli ordini di controllo, organi di controllo vengono visti semplicemente appunto come chi emette la multa e così via. È una banalizzazione questa. Invece bisogna educare realmente al dialogo e al rispetto delle istituzioni e quindi soggetto che parte di un contesto istituzionale a più voci. Ecco, quindi non soffermiamoci solamente a quel fenomeno che genera morte, che poi è in realtà solo uno dei tanti aspetti comportamentali che oggi ogni soggetto ha nella società.